Figlia di Arturo Piteo, 1877-1932, proprietario di un negozio di armi da caccia, in via Cavour, e della bellissima padovana Ione Volebele, 1888-1991. La proprietaria del noto Caffè Borsa, in piazza Garibaldi, nacque a Rovigo nella villa di famiglia, sita nell'allora via Sabbioni, al numero civico 11, oggi via Santa Maria Chiara Nanetti. Venne battezzata in Duomo dal Vescovo Tommaso Pio Boggiani, 1863-1942, il 26 marzo 1910, e sin da piccola, etra, così viene soprannominata dagli amici. Palesò un forte temperamento artistico, studiando sin dalla tenera età di tre anni danza e da quella di dieci recitazione, lavorando inizialmente nella compagnia di Carlo Lombardo, dopo aver adottato il nome d'arte di Dria Paola. Dal sapore più orientaleggiante e misterioso, grazie alla sua straordinaria bellezza, riuscì ad ottenere una particina nel film Gli ultimi giorni di Pompei, 1926, diretto a quattro mani da Carmine Gallone e da Amleto Palermi. Da allora, fu un susseguirsi di trionfi, in pellicole che catapultarono l'attrice veneta fra l'Olimpo delle stelle del cinema italiano. Dell'epoca, alla morte del padre, nel 1932, si trasferì con la madre a Roma e, dopo aver preso parte a diversi film in ruoli di supporto ma anche da protagonista, Nel 1933 interpretò il film per cui è tuttora ricordata, Fanny, 1933, di Mario Almirante, riapparve regolarmente sino agli albori degli anni 40, quando preferì ritirarsi a vita privata.